Un po' di rinforzare il tuo lavoro, il tuo lavoro è stato fatto che era il tuo lavoro, era rotto il tuo lavoro. Alla prima di rinforzare il tuo lavoro, è stato fatto che era il tuo lavoro. Sì, ma non è stato 60 euro. È stato fatto anche un'altra parte, perché è stato fatto anche un'altra parte. Il tuo lavoro è stato fatto anche un'altra parte.